Finita la lunga querella di giustizia sportiva che ha tenuto con il fiato sospeso l'eccellenza, la prima sezione del Collegio di Garanzia del Coni ha accolto il reclamo dell'Agropoli contro la sconfitta a tavolino combinata alla squadra per la gara interna con il Buccino. È stato dunque ripristinato il risultato ottenuto sul campo con i Delfini usciti vittoriosi con il risultato di 1-0 dal match e sono stati di fatto sbloccati i play-off. La vicenda si trascinava da mesi, era sorta dopo la partita del 2 maggio scorso a seguito della quale il Buccino aveva sollevato obiezioni circa la posizione irregolare del calciatore Filippo Manzi. Un'opposizione riconosciuta da ben due sentenze nei due gradi di giustizia sportiva regionale interamente però ribaltate nel corso dell'ultima pronuncia quando il Buccino ha sollevato una serie di eccezioni di inammissibilità che sono state tutte rispinte e l'avvocato Aita, che ha difeso l'Agropoli, ha citato alcune sentenze precedenti con interpretazioni favorevoli ai Delfini. Il collegio di garanzia del CONI, esprimendosi nel merito, ha convalidato la vittoria dell'Agropoli in quella partita e dato il via libera alla post-season e a quelle date già comunicate per i play-off del 23, 26 e 29 giugno. Domani dunque fischio d'inizio alle 16.30 per le gare del Girone E, Virtus Cilento-Albanova, Audax Cervinara-Agropoli e pianura Angri. Alla luce della disposizione del collegio di garanzia, in base al quale il Buccino dovrà anche pagare le spese di lite per un ammontare di 1.500 euro, la classifica finale del Girone E vede al primo posto la Virtus Cilento, al secondo Langri e al terzo l'Agropoli, che domani incontrerà una delle principali candidate al salto di categoria.